Sono Maurizio Faraboni e sono un X-Photographer. Sto usando la nuova Fujifilm X100F. Io uso questo tipo di macchine per i miei reportage perché sono molto comode. Sono quasi invisibile, mi muovo tranquillamente, non pesa proprio nulla, anche il collo non è invadente. E questo mi piace tantissimo perché le situazioni che io vado a riprendere sono situazioni al limite e non voglio essere troppo invadente con le persone che vado a fotografare. Seguitemi nel mio lavoro. Osman! E' la macchina che più si addice al tipo di reportage che faccio. Mi piace tantissimo perché è molto piccola, è molto leggera e ha una qualità impressionante. E' stata ulteriormente migliorata rispetto all'ultima versione della X100T. Adesso ha un core da 24 milioni di pixel. Il file anche in JPEG è fantastico, senza parlare del RAW. Tantissime le innovazioni. Dalla ghiera simile a quella che abbiamo su X-Pro2. Il joystick che è molto comodo per spostare l'aria di messa a fuoco. E la nuova batteria che è quella che troviamo sulle X-T2 e sulle X-Pro2 con un'autonomia veramente impressionante. Gli scatti sono quasi triplicati, direi. A volte i servizi iniziano con il sole, con la bella giornata. Oggi era nuvoloso ma comunque si finisce di sera, di notte. X100F mi permette comunque di scattare mano libera in condizioni di luce veramente molto molto difficili con dei risultati eccezionali.